Musica Pubblica manifestazione di protesta contro la prevista realizzazione di una cava sottomarina a largo della spiaggia di Punta Penna. Oggi in Piazza Di Omede si sono ritrovati rappresentanti di associazioni, cittadini e movimenti politici contrari a questo progetto. Con noi l'assessore all'ambiente Anna Suriani, su quali fondamenti si basa la vostra protesta? Innanzitutto mi sembra che sia una protesta che già sta dando i primi frutti, nel senso che i vastesi sono con noi, vediamo il termine della giornata, in pochi minuti le associazioni hanno raccolto un bel numero di firme. Noi diciamo no a questa cava, anche in Consiglio Comunale abbiamo d'altra parte votato bipartisan, quindi da estra e sinistra insieme, una risoluzione che chiede la sospensiva immediata di tutti i lavori. Perché davanti alla spiaggia di Punta Penna è improponibile qualsiasi atto che possa in qualche maniera pregiudicare la bellezza e l'integrità di quel tipo di costa. Quindi mi sembra fondamentale che i partiti, i movimenti, chiunque, i liberi cittadini che hanno a cuore quel tratto di costa così significativo, su cui anche come amministrazione comunale abbiamo investito tanto, anche dal punto di vista turistico, non solo ambientale, venga risparmiato da qualsiasi ipotesi di danno. E l'assicurazione dell'assessore Mauro Febbo come le analizza? In senso assolutamente negativo, Febbo continua a insistere sulla opportunità di andare in questa direzione, ci sembra incredibile che proprio davanti a due riserve naturali si possano fare queste operazioni che già di per sé sono delicate, soprattutto per il problema degli effetti che poi danno. Quindi già il problema dei ripascimenti deve essere valutato con molta attenzione e molta calma perché funzionano là dove ci sono delle precauzioni ulteriori. Però andare a organizzare una cava a poche centinaia di metri da una spiaggia, peraltro in un'area tutelata, mi sembra veramente un atto che va in contro tendenza anche rispetto alle indicazioni che ci vengono dalla regione, che d'altra parte la stessa regione ha istituito recentemente la riserva di Ortona, la riserva di Punta D'Erci addirittura da 12 anni, tutto il sistema delle aree protette di cui anche Ortona fa parte da pochi anni, due anni appena, quindi mi sembra veramente una schizofrenia agire in questo senso. Tra i partiti politici a basso il primo ad esprimersi con convinzione contro la realizzazione di questa cava sottomarina a largo della spiaggia di Punta Pena è stata Rifondazione Comunista e poi c'è stata la condivisione unanime anche in Consiglio Comunale. Marco Marra, assessore e rappresentante del Circolo Petrocelli, oggi questa manifestazione e dunque la mobilitazione prosegue. Sì, Rifondazione si è impegnata da subito, per amor del vero è giusto ricordare che è stata un'iniziativa subito, immediatamente appoggiata da tutti i partiti di centro-sinistra, quindi non vogliamo mettere il cappello né alla battaglia contro la cava né tantomeno alla manifestazione che è stata organizzata dalle associazioni, anche con il nostro contributo. È giusto che i partiti appoggino le iniziative che nascono dalla società civile e noi l'abbiamo fatto forse in prima linea, abbiamo scritto l'ordine del giorno con le correzioni che poi è stato approvato. Ripeto, non abbiamo voglia di dimostrarci i protagonisti di questa battaglia, in questo momento l'importante è che tutti, compreso il centro-destra, laddove ci fosse, lo ha dimostrato anche il Consiglio Comunale, tutti contribuiscano alla battaglia, è fondamentale, è una lotta che non può avere colore semplicemente perché il luogo come Punta Penna è amato da tutti i vastesi e non solo. Oggi ci sono turisti anche di fuori vasto e anche di molto lontano che sono arrivati. È una risposta importante, quello che si è fatto in questi anni nella riserva, anche come amministrazione è stato fondamentale, si sono visti i risultati e non abbiamo voglia di buttarli all'aria.